Grazie per l'invito. È vero quello che ha detto Alberto, ma mi ha anche detto tu parla un po' di quello che cazzo ti pare, come usa a dire a tutti. E c'è una linea precisa. Io ho deciso di partire un po' da lontano, anche se Luciano Barra Caracciolo ha un po' anticipato quello di cui volevo occuparmi, perché volevo parlare di neoliberismo senza menzionare il neoliberismo e lui invece ci è andato diritto. E invece io ho pensato di parlare un po' di ricorrenze, visto che sono dieci anni da asimmetrie, un po' di più dal primo convegno a Pescara a cui ho partecipato, come ricordava Alberto prima. E sono anche tre anni dall'inizio della pandemia su cui Alberto ci ha invitato a dire qualcosa, ma andando un po' all'indietro, 14 dalla grande recessione del 2007-2009, 23 dall'introduzione dell'euro, anche se qui c'è qualche differenza tra quando è entrato nelle tasche e quando è stato deciso, 30 dalla fondazione dell'Unione Europea, ma quello che guida un po' la mia ricostruzione è che sono 44 anni dal primo governo Thatcher e 43 dal governo Reagan, che secondo molti segnano l'inizio della fase neoliberale moderna, dopo più di due decenni di ricostruzione post-bellica che ha visto perlomeno in Europa e negli Stati Uniti una crescita molto rapida e una crescita giudicata da tutti piuttosto equilibrata, perché i salari crescevano insieme alla produttività, non c'erano squilibri finanziari o squilibri delle partite del bilancio dei pagamenti che sono venuti dopo e c'è stato un rafforzamento del lavoro rispetto al profitto che ha portato progressivamente a un ribaltamento dei ruoli e invece a un rafforzamento della destra Thatcheriana nel Regno Unito e di quella Reaganiana negli Stati Uniti, dove sono state introdotte una serie di cose di cui vorrò accennare. Per quanto riguarda più specificamente l'Italia, qui ho raffigurato un po' il fatto che la crisi non è che parta proprio con l'euro e con l'Unione Europea necessariamente, qua ho scelto di confrontare la retribuzione mensile reale a prezzi del 2022 di Italia, Germania, Francia e Spagna e vediamo che l'Italia fino alla metà degli anni 80, forse inizio anni 90, se la giocava bene con la Germania e con la Francia, riuscendo addirittura a superarle in termini proprio di soldi che entravano nelle tasche dei lavoratori. E negli anni 80 e 90 invece c'è una divergenza, la retribuzione reale degli italiani si appiattisce, smette di crescere, una cosa simile accade anche per la Spagna, continua un po' a crescere invece per Francia e Germania e quindi qui per la convergenza, certamente dall'anno 90 e poi con l'euro, di convergenza tra l'Italia, Germania e Francia non ce n'è stata. La storia è un po' diversa invece per i paesi che sono entrati dopo nell'Unione Europea e che più hanno goduto i vantaggi di entrare nell'Unione Europea questi hanno tutti visto aumentare la retribuzione media dei loro lavoratori e questo aiuta anche a spiegare perché si sia poi premuto per accelerare l'ingresso di questi paesi perché sono tutti paesi geograficamente vicini alla Germania e ai paesi dell'area core del nord Europa e il loro ingresso ha facilitato di molto, senza voler andare troppo nelle lunghe, l'economia tedesca sia perché hanno potuto impossessarsi a basso prezzo dell'industria prima della Germania Est e poi di altri partner sia perché hanno più facilmente dell'Italia o di altri paesi potuto delocalizzare in questi paesi, attivare le catene del valore che passavano per questi paesi per trasmutarle in catena del valore in cui rientrava anche la Francia. E quindi abbiamo una situazione che possiamo sintetizzare in questo modo in cui dobbiamo, anche su questo secondo me c'è un ragionamento importante da fare ricordare che le differenze, la convergenza e la divergenza non sono solo nazionali ma sono anche regionali, come ben sappiamo e l'Italia su questo è come sempre spezzata in due qua abbiamo sempre le retribuzioni nell'ultimo anno per cui ci sono i dati più o meno per tutti e ho voluto confrontare la cosa con il PIL e un po' visivamente, senza voler andare in dettagli statistici e econometrici la differenza nel PIL pro capite sembra meno accentuata della differenza nelle retribuzioni orarie tra l'Italia, in particolare il Mezzogiorno e il resto dell'Europa e questo a mio avviso è uno dei pezzetti della storia di come l'Italia ha deciso di svilupparsi e cioè tenendo bassa la retribuzione del lavoro rispetto ad altre economie che hanno invece puntato sull'innovazione tecnologica più di quanto abbiamo fatto noi. Questa cosa è ancora più vera se andiamo nel dettaglio provinciale ma possiamo saltare questa cosa. Quindi in cosa si è concretizzato questo spostamento di cui parlavo prima dalla Tatchel, da Reagan e poi negli anni successivi? Ma intanto con un cambiamento nelle priorità fino agli anni 80 la priorità della politica fiscale in Italia era di creare lavoro per tutti e l'inflazione non era un problema considerato rilevante poi negli anni 70 è arrivato lo shock petrolifero e va bene ma sono anche arrivate le lotte sindacali e quindi questo problema di spostamento nei poteri di forza e si è deciso di passare alla lotta all'inflazione. Per fare la lotta all'inflazione si è deciso, seguendo gli economisti mainstream di rendere indipendenti le banche centrali e quindi prima ancora della BCE il Ministero del Tesoro Italiano si sganciò dalla Banca d'Italia con una procedura molto informale e fino a febbraio dell'81 l'accordo era che la Banca d'Italia comprasse tutti i titoli del tesoro non assorbiti dal mercato di che voleva dire che lo spread non ci poteva essere perché era la Banca d'Italia a fissare il prezzo di vendita dopo il 1981 questo non fu più garantito e i titoli iniziano a essere venduti a un prezzo che segue gli umori dei mercati finanziari e iniziamo ad avere un aumento del peso del debito che è una delle componenti fondamentali nell'accumulazione del debito pubblico italiano. Queste cose sono poi peggiorate quando si è deciso di fare l'Europa e di fare una banca centrale europea che avesse come suo unico obiettivo la lotta all'inflazione fosse indipendente non potesse intervenire nei mercati primari nei titoli pubblici delle varie nazioni eccetera eccetera l'Unione Europea col trattato di Maastricht è un altro tassello altri chiodi sulla bara in cui ci hanno cacciato come il mio maestro Godley Wayne Godley fece notare già nel 1992 ma se si fa un trattato in cui l'unica istituzione europea a parte queste diciamo fintamente democratiche di cui si è appena parlato il Parlamento e il Consiglio quindi l'unica istituzione economica è la banca centrale vuol dire che si ritiene che le altre non servano in particolare che non serva un ministro delle finanze europeo e questo è possibile solo se si ha una cieca fiducia nella capacità dei mercati di andare in equilibrio da soli quindi i governi devono essere tenuti fuori dalla porta la banca centrale si occupa solo dell'inflazione e tutto il resto ci penseranno i mercati cosiddetti questo si è accompagnato sempre nella stessa logica con la deregolamentazione dei mercati finanziari iniziata da Clinton negli Stati Uniti e poi traslata in Europa con le privatizzazioni che in Italia sono state fatte prevalentemente da prodi e con la deregolamentazione del mercato del lavoro e tutti hanno contribuito a picconare le norme che tutelavano il lavoro con il susseguirsi dei diversi governi oggi tra gli economisti di tutte le estrazioni credo di poter dire si è concordi nel fatto che ci vuole progresso tecnologico il progresso tecnologico lo fanno le grandi imprese il progresso tecnologico è finanziato prevalentemente dal settore pubblico in Italia finché avevamo Liri prima delle storture con cui è stato gestito Liri tutto questo c'era dopo è sparito ma negli altri paesi invece è continuato quindi tutte queste riforme le modifiche cambiamenti strutturali erano diciamo sotto lo slogan reganiano del trickle down economics cioè del fatto che se si dà più soldi si cambia la distribuzione del reddito favorendo le classi più agiate e come tramite i tagli delle tasse il benessere colerà verso il basso a cascata perché si diceva ma si continua a dire da molti sono i ricchi che fanno gli investimenti che creano le imprese che creano il lavoro quindi se i ricchi hanno più capacità di spesa creeranno più benessere per tutti quindi sono 40 anni che questo slogan è stato proposto e attuato ma i risultati non li abbiamo visti sarebbe ora di rifletterci e qui per quello che è utile dirlo per questo è utile ricordare che sono 40 anni che ci provano ma non ci sono riusciti forse qualche dubbio sull'efficacia di queste politiche dovrebbe venire per citare una sola cosa sul nostro mercato del lavoro se andiamo a guardare il part time involontario sul totale del part time l'Italia dopo la Grecia sta messa peggio di tutti queste sono le persone che rispondono al questionario Istat dicendo io ho un lavoro part time perché non ho trovato un lavoro a tempo pieno e se me ne offrissero uno lo accetterei subito lavoro part time ma vorrei lavorare più ore perché non arrivo alla fine del mese quindi è tutta una distorsione che ha contribuito a falsamente a ridurre il nostro tasso di disoccupazione ma che è un altro dei pezzetti che ha comportato un declino dell'Italia cercando di non metterci troppo dopo aver fatto questa prima parte del lavoro sono andato a guardarmi questo saggio di Storm e ho trovato questa sintesi delle mie slide precedenti che mi sembra perfetta dopo 40 anni di una mala gestione neoliberale delle economie sviluppate non è un servizio che non ha funzionato la crescita si sta riducendo soffocata da un aumento nelle disuguaglianze di reddito e ricchezza e da una ossessione compulsiva per l'austerità fiscale e questo mi sembra molto appropriato è stata tenuta in vita dall'indebitamento privato e pubblico e da uno stato quasi permanente di bolle speculative di tipo finanziario negli anni 90 col mercato azionario poi con il mercato immobiliare poi con i mercati delle materie prima e così via questo esperimento è andato quasi morto nella crisi del 2007 2009 ma è stato salvato dall'azione dei governi e delle banche centrali ma la sostanza non è cambiata storm si è occupato in questo articolo anche di covid quindi gli effetti del covid vengo a quanto mi aveva chiesto Alberto di commentare e qui ho una delle cose su questo ragionamento che ha fatto Alberto su simmetrie e asimmetrie ammetto di pensarla come gli economisti che lui ha ridicolizzato da questo punto di vista ma se avessi più tempo potrei argomentare su questa cosa ma effettivamente noi diciamo che lo shock della covid è stato simmetrico perché quando è arrivata questa malattia ha colpito sì prima l'Italia del nord però più o meno rapidamente tutte le altre economie europee e mondiali però gli effetti sono stati molto diversi e storm ha fatto un'analisi dei dati e una delle cose che lui ha trovato è che intanto l'effetto forse si dovrebbe guardare prima questo grafico la mortalità maggiore si è avuta nei paesi come l'Italia il Belgio la Spagna e il Portogallo che hanno speso meno degli altri per l'assistenza specifica rivolta al contrasto del covid e perché questi paesi hanno speso di meno per questo mantra dell'austerità fiscale della demonizzazione del debito pubblico sono i paesi che hanno il debito pubblico più alto rispetto al PIL quindi c'è questa cosa ossessiva compulsiva che riguarda il debito pubblico su cui anche dovrei poter parlare molto più a lungo ma una delle cose che si dimentica è che questo debito pubblico è un credito di qualcun altro ora tipicamente era un credito delle famiglie italiane e ancora oggi nelle pubblicità dopo il telegiornale in cui vi hanno detto che il debito pubblico è un peso sulle spalle dei vostri nipoti dopo il telegiornale arriva la pubblicità che vi dice che la nuova tranche di emissione dei BTP è il modo più sicuro di mettere la vostra ricchezza finanziaria da parte per i vostri nipoti quindi il debito pubblico è una grande discussione di distribuzione del reddito e della ricchezza non c'è nessuna norma che dica che questo debito pubblico debba essere ripagato tra qualche anno tra x anni con tasse più alte per i nostri nipoti è una scelta politica se uno vuole fare questa cosa in più finché il debito pubblico è nelle tasche della banca centrale la banca centrale gira i profitti che ricava su questo debito pubblico al governo che ha emesso il debito il debito è assolutamente ininfluente da qualsiasi punto di vista sono delle banalità di contabilità nazionale che però non vi raccontano al telegiornale comunque chiudendo questa parentesi sul debito e arrivando alle conclusioni pare diciamo che il piano nazionale di resilienza e ripartenza resistenza ci possa salvare anche qui la retorica che c'è stata è assolutamente priva di fondamento ci hanno detto ci sono tutti questi miliardi che l'Europa ci vuole regalare e noi dobbiamo spendere per diventare veri europei in realtà queste sono due tipologie la prima è un prestito che ci viene fatto e che dobbiamo normalmente rimborsare e l'unico vantaggio è che il prestito non lo dobbiamo emettere noi come Ministero del Tesoro ma lo emettono gli europei dovremmo rimborsarlo noi al 100% a loro e sulla seconda parte i fondi i soldi a fondo perduto che sembrano un regalo quelli sono sul bilancio europeo a cui l'Italia contribuisce quindi l'unico vantaggio è che noi avremo su questi soldi a fondo perduto una quota un pochino più grande di quella che dovremo mettere per ripagarli quindi è una questione di anticipazione di soldi per fare delle cose che dovremo rimborsare in futuro però non possiamo decidere noi come spendere questi soldi dobbiamo fare dei progetti che l'Europa ci deve approvare se poi non facciamo delle riforme l'Europa ci dice no sei stato cattivo i soldi non te li do più potrebbe funzionare in teoria potrebbe anche funzionare perché la logica che c'è dietro non è una logica sbagliata dobbiamo modernizzare il paese ridurre l'impatto ambientale ridurre le diseguaglianze dobbiamo dare più soldi al sud rispetto al nord perché il sud deve crescere più rapidamente però per farlo c'è bisogno di un'amministrazione che funzioni e già da un po' di anni abbiamo io ma anche altri prima di me abbiamo fatto notare che l'austerità a cui i nostri governi hanno aderito ha ridotto gli dipendenti pubblici italiani molto al di sotto della soglia normale in Europa cioè noi per arrivare a un rapporto tra dipendenti pubblici e popolazione simile a quello della Germania o della Francia dovremmo assumere forse due milioni di persone nell'amministrazione pubblica certamente un milione che poi è un numero che fa sempre più scena ma assumere anche perché tanti anni dell'austerità hanno comportato l'invecchiamento progressivo dei nostri funzionari pubblici che ovviamente stanno lì a 50-60 anni non possono farla loro la rivoluzione digitale dell'amministrazione pubblica meridionale ci vogliono delle forze nuove con una formazione migliore a tutto questo si doveva pensare prima farlo prima e forse ci si sarebbe riusciti non so se ci riusciremo a farlo ora nel mio piccolo vedo l'università stiamo avendo un sacco di soldi per fare dei contratti di tre anni per gestire i fondi del PNRR dopodiché passati tre anni a questi giovani dovremmo dire caro amico adesso è il momento di ripagare i debiti il PNRR è finito devi tornare a casa perché soldi per darti un contratto a tempo indeterminato non ci saranno quindi se questa è la storia che vedremo nei prossimi mesi nei prossimi anni il PNRR sarà una grande delusione e questo purtroppo mi sembra emergere anche dalla discussione sul cosiddetto non paper tedesco su come si dovrebbero riformare le regole europee ma credo che su questo parleranno nelle sessioni successive mi è arrivato pochi giorni fa una nota del Fondo Monetario Internazionale che diceva ah bene ma adesso è finita la pandemia è finita la crisi e i nostri studi dimostrano che appena il PIL ricomincia a crescere quello è il momento in cui i paesi ad alto debito pubblico devono tagliare e tagliare riducendo la spesa pubblica mai aumentando le tasse insomma sono 40 anni che ci provano non ci riescono però è sempre la stessa cosa insomma dovremo affrontare prima o poi queste asimmetrie ce ne sono altre su cui non abbiamo il tempo di soffermarci come gli squilibri di cui già qualcuno accennava del fatto che gli Stati Uniti sono il debitore fondamentale del mondo la Cina uno dei maggiori creditori del mondo questo dipende anche dal nostro sistema internazionale dei pagamenti fatto a Bretton Woods con la sconfitta di Keynes progressivamente ci sono riproposte fatte anche da me in passato con Luca e anche da altri per riaggiustare il sistema dei pagamenti europeo e internazionale sulla base dei suggerimenti di Keynes che diceva anche i creditori devono contribuire al riequilibrio perché se il riequilibrio devono pagarlo i debitori da tutti i punti di vista il sistema è un sistema recessivo in ogni caso l'ultima battuta l'unico pannicello caldo che abbiamo messo di recente in Italia a mio avviso è stato questo del 110% del super bonus che un po' andava in un'altra delle direzioni che avevamo suggerito con Luca Fantacci che è quella di dire se siamo in una moneta unica ma abbiamo necessità di spendere più di quanto ci consentano le regole una moneta fiscale ce lo consente il super bonus andava in quella direzione perché finché i crediti fiscali si potevano scontare e usare per ulteriori pagamenti diventavano un modo per creare liquidità nel sistema e fare delle spese che altrimenti non sarebbero state fatte questa cosa ovviamente un po' va contro la logica europea e infatti alla trasmissibilità dei crediti hanno messo i bastoni tra le ruote ma mi fermo qui grazie grazie Gennaro mi hai lasciato un minuto per la discussion e un minuto per la reply vabbè allora io da discutere ho poco nel senso che storicamente mi sono sempre trovato piuttosto d'accordo con te di alcune cose che mi hanno colpito innanzitutto non vorrei che ci fosse un equivoco di fondo cioè tutti siamo consapevoli che c'è uno spartiacque all'inizio degli anni 80 e lo mostrano i dati e quello spartiacque è diciamo l'inizio della terza globalizzazione che prende appunto la forma della finanziarizzazione dell'economia cioè diciamo è la nota frase di Warren Buffett la lotta di classe esiste l'abbiamo vinta noi il momento della vittoria è il momento in cui il sistema di Bretton Woods viene veramente smantellato in quello che era uno dei suoi componenti che era sostanzialmente il controllo un minimo di controllo dei movimenti internazionali dei capitali e il mettersi in mano a istituzioni sui cui fallimenti i mercati esiste un'ampia letteratura comprovata dall'evidenza anche quotidiana insomma con tanti auguri a che avevi soldi incredi suissi insomma per dire l'ultima insomma il tema semmai è che le istituzioni europee di cui abbiamo parlato sono appunto una istituzionalizzazione per esempio del divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia a quel punto diventa un articolo del trattato sono una istituzionalizzazione della finanziarizzazione a quel punto diciamo quello che era un rapporto di forza perso si consolida in un assetto istituzionale è molto interessante l'analisi che fai del dualismo territoriale italiano hai avuto un problema l'hai fatto con uno slide europeo e quindi hai fatto vedere che questo dualismo territoriale in realtà esiste in Spagna esiste in Germania esiste in tanti altri paesi da ogni parte questo dualismo ha la sua storia ogni stato ha cercato di gestirlo in un modo o in un altro adesso sapete che questo è un tema di attualità ma le radici sono molto profonde e molto antiche io non definirei l'austerità diciamo così come una specie di ossessione compulsiva diventa una necessità nel momento in cui altri meccanismi di aggiustamento vengono meno cioè questo è un pochino il tema dopodiché cosa venga prima cosa venga dopo non so se bastano gli strumenti dell'economia per decidere questo è oggettivamente un tema di rapporti di forza politici privandoci di un grado di libertà ovviamente ci siamo trovati in difficoltà maggiori ma il dato che emerge che sto facendo emerge negli ultimi articoli che pubblico è che nonostante questo il nostro paese ha resistito meglio di altri l'abbiamo visto questa mattina con le slide sulla situazione debitoria cioè il malato in questo periodo non siamo noi e quindi grazie sul PNRR appunto sono interessanti le sottolineature che hai fatto perché si sottolinea spesso l'aspetto finanziario se ne discute tanto nonostante se ne sappia oggettivamente poco o meno di quello che si potrebbe si vorrebbe sapere non si discute mai l'aspetto politico cioè il problema non è tanto quanti sogli ma il problema è te li do se fai come dico io ora chi è che ci dice cosa fare sono le persone per esempio che ci hanno messo in serie difficoltà con una impostazione di politica industriale europea che ci ha portato a dipendere sostanzialmente da un unico fornitore di fonti fossili ad esempio per dirne una questo è il vero problema cioè il vero problema secondo me di questo approccio sono le condizionalità ma di questo sicuramente poi avremo modo di parlarne perché vedo che è arrivato anche il senatore Cottarelli e un pezzo della riforma delle regole europee è potenziare il ruolo delle condizionalità anche all'interno del normale ciclo del semestre europeo grazie Gennaro io do la parola a Luca mi allontano da qui perché hanno bisogno di me grazie grazie buongiorno sono portato dietro il computer perché ho continuato a prendere appunti devo dire che sono grato ad Alberto per l'invito perché è sempre molto ricco di stimoli e sono sempre strabiliato dalla qualità dell'attenzione vi vedo tutti appunto nonostante l'ora e nonostante il lavoro già fatto fin qua veramente presi dietro con gli occhi incollati al video suppongo ci sia una partita di là non ho guardato ma sugli schermi confessatelo c'è l'anticipo di campionato perché allora io mi sono ecco un'altra grattitudine che voglio esprimere è al luogo che ci ospita giustamente Alberto lo faceva in apertura credo che sia significativo che siamo in un luogo che è dedicato alla cooperazione e ci tocca parlare per lo più di competizione questo non è scontato perché stiamo parlando di un'unione di una comunità e quindi forse se dessimo più spazio alla cooperazione rispetto alla competizione forse staremmo disegnando uno scenario diverso ma questo già entra nel merito del discorso breve che cercherò di fare che riguarda lo vedete il titolo io ho cercato di attenermi a questo mandato chiedendomi che cosa intendiamo per convergenza visto che se ne parla tanto è diventato anche questo un mantra e che ci importa di sta convergenza nel senso che forse appunto vale la pena chiedersi anche questo un modo di intendere la convergenza lo ha anticipato già Gennaro mostrandoci i suoi grafici ha a che fare con la convergenza delle variabili macroeconomiche in particolare del tenore di vita così come è misurato dal livello del reddito pro capito il PIL o i salari ora è un modo strano questo innanzitutto di denominare questo obiettivo perché convergenza si intende si sottointende a rialzo perché convergenza può avvenire anche a ribasso anzi tristemente è quello a cui rischiamo di assistere e non è certo un obiettivo condivisibile quindi se intendiamo convergenza a rialzo chiamiamo lo sviluppo non è una bella parola neanche quella non è precisa però perlomeno ha una storia un po' più e un significato un po' più univoco ora la questione è questa noi possiamo davvero pensare che la convergenza intesa come sviluppo e quindi come crescita del reddito pro capito sia un obiettivo plausibile di un'unione perché di questo stiamo parlando l'unione si crea in vista di questo lo evocava poco fa Alberto neanche con l'unità nazionale ci siamo riusciti era certamente una delle sfide e andiamo avanti a parlare di questo cronico dualismo che caratterizza non soltanto il nostro paese lo vedevate dai grafici ma lo vedete dai telegiornali la Francia si vedeva bene nel grafico la Francia ha un dualismo che significa Parigi e poi il resto della Francia ora al di là poi diciamo del dato empirico ci sono sufficienti ragioni teoriche per pensare che la creazione di per sé di un mercato sia in grado di assicurare lo sviluppo e l'uguaglianza e l'uguaglianza nello sviluppo cioè quella cosa che chiamiamo convergenza questa è una domanda dal punto di vista teorico ci sono ragioni sufficienti appunto per porre la competizione come mostravate anche nella sessione precedente alla base di un intero disegno istituzionale che si vuole anche sociale però ahimè no perché anche lo stesso Adam Smith che viene sempre evocato per giustificare questa posizione c'aveva i suoi bei dubbi i miei studenti conoscono bene e Claudio potrà verificarlo eventualmente un passo in cui Smith dice nella storia economica è successa una cosa di rilevante si è scoperta la rotta per il nuovo mondo e quella che porta invece nell'estremo oriente attraverso la circunnavigazione del capo di buona speranza quindi si è inventato il mercato globale cosa ci possiamo aspettare beh teoricamente sulla base dell'idea della mano invisibile della divisione internazionale del lavoro eccetera ci aspettiamo pace e prosperità ai noi non è quello che osserviamo osserviamo dice lui non io osserviamo sfruttamento e mercantilismo cioè competizione nazionalistica fra paesi dice certo è passato troppo poco tempo non so neanche 300 anni cosa vuoi che sia vediamolo però nel frattempo quello che ci becchiamo è questo allora il rischio è che se la convergenza la vediamo in questi termini finisca per diventare mi sono divertito a cercare convergenza Europa nella database dell'economist è venuto fuori giusto per avere un'idea della comune rappresentazione un articolo dell'anno scorso in cui parlava della convergenza degli stili di vita riscontrabile nella diffusione dei ristoranti giapponesi nelle principali capitali europee ecco questo è ora in realtà scusate in possesso anch'io dello scettro ma vado veloce convergenza sappiamo bene a che cosa si riferisce i criteri di convergenza che stanno alla base da Maastricht in poi del disegno dell'unione monetaria che ancora oggi presiedono le regole per chi sta dentro e per chi vuole accedere noi ci siamo focalizzati per lo più essendo già dentro sul punto 2 finanze pubbliche sane e sostenibili sintetizzate nel patto di stabilità ma ci sono altri criteri che valgono per i paesi candidati a entrare e che sarebbe interessante analizzare anche per quelli che sono già dentro perché anche questo lo evocava Alberto stamattina ci siamo dimenticati della convergenza in termini di tassi di inflazione invece sappiamo bene che tassi di inflazione diversificati questo lo sapete dal blog di Alberto lo sapete a memoria sono alla base di divergenza all'interno dell'Europa la stabilità del tasso di cambio se non intendiamo banalmente quello nominale che è sparito ma quello reale altrettanto problematico anche per chi sta dentro e i tassi di interesse appunto la convergenza è smentita dall'esistenza degli spread ma come anche questo diciamo è una felice anticipazione dei frequentatori di queste conferenze che poi è stata largamente comprobata anche da un dibattito più ampio nei criteri di convergenza ne mancava uno e questo è stato definito da altri economisti diciamo più canonici come il peccato originale dell'unione monetaria mancava un criterio che è l'unico che dal punto di vista macroeconomico ha un senso cioè l'equilibrio della bilancia dei pagamenti perché per stare insieme all'interno di un'unione monetaria questo è l'unico requisito tu devi tenere in equilibrio i tuoi conti con l'estero perché questa è la garanzia del fatto che non ci siano tensioni sul cambio e non essendoci il cambio non ci si può più permettere quelle tensioni quindi per tornare ai fondamentali io mi permetto nelle prossime slide di citare alcuni economisti eretici il primo è per l'appunto Adam Smith che a proposito appunto di simmetrie e asimmetrie ci introduce al tema con questa affermazione chi compra non sempre intende rivendere ma spesso usare o consumare mentre chi vende intende sempre acquistare di nuovo quindi c'è una dissimmetria fra chi compra e chi vende dove l'atto di vendere perché è diverso perché ti lascia con in mano dei soldi che poi a quel punto hanno bisogno di essere spese dice il primo può spesso aver chiuso il suo affare hai comprato ti sei procurato quello che ti serve il panino te lo mangi e lì hai finito con i consumi finisce la vita economica se invece tu il panino l'hai venduto e ti sei procurato del denaro dice non puoi mai avere fatto più della metà del tuo lavoro perché l'altra metà del tuo lavoro consiste nello spendere il denaro che hai guadagnato Adam Smith non è come scopo a sé che gli uomini desiderano il denaro ma perciò che possono acquistare con esso e questo vale per i rapporti di scambio fra gli individui vale a maggior ragione per i rapporti di scambio fra i paesi se tu sei un paese che ha venduto e ha esportato e esportando ha guadagnato del denaro questo denaro devi spenderlo è un atto economico altrettanto necessario e l'economia si compie soltanto quando questo denaro tu lo hai speso perché l'accumulazione del denaro qual è l'avversario polemico di Smith qua è per l'appunto il mercantilismo che concepisce l'accumulazione di denaro come obiettivo dello Stato per motivi non economici ma politici come strumento di potere non a caso questa posizione trova eco in David Riccardo questo è stato citato prima da Luciano Barra Caraccio ore argenti essendo stati scelti come mezzo generale di circolazione sono distribuite dalla concorrenza commerciale tra i diversi paesi del mondo in proporzioni tali da adeguarsi al traffico naturale che si avrebbe se questi metalli non esistessero e se il commercio fra paesi fosse semplice baratto il denaro è un mezzo di scambio quello che conta nei rapporti fra i paesi è lo scambio di beni e servizi questo deve avvenire qualunque altra cosa avvenga alla fine crea degli squilibri gli squilibri globali che sono stati evocati prima e gli squilibri creano tensioni e questa è la cosa per citarne un altro ma adesso abbiamo finito è un passo impressionante di Keynes siamo nel 41 dice il problema di mantenere l'equilibrio nella bilancia dei pagamenti fra i paesi non è mai stato risolto da quando i vari tipi di baratto per l'appunto hanno ceduto il passo all'uso della moneta e delle lettere di cambio cioè del credito certo abbiamo inventato la moneta e il credito perché agevolano gli scambi e però creano anche un rischio che è quello che la moneta non venga spesa e i debiti non vengono pagati l'incapacità di risolvere questo problema è stata una seria causa di impoverimento malcontento sociale e perfino di guerre e di rivoluzioni e fa venire i brividi a leggere questo passo a me quantomeno ogni volta allora ci siamo dimenticati tutta questa tradizione che vi ho rapidamente rassunto dimenticando di introdurre questo criterio nel patto cioè nei criteri di convergenza è stato parzialmente reintrodotto nelle macroeconomic imbalance procedures al primo punto dove si evoca per l'appunto la bilancia dei pagamenti ma è l'unico punto e le conseguenze sono note a voi tutti qua ve lo aspettavate no lo squilibrio è reso plasticamente evidente dall'esplosione dei saldi target 2 che misurano proprio gli squilibri di bilancia dei pagamenti all'interno dell'eurozona che esplodono a partire dalla crisi finanziaria globale del 2007 e 2008 e continuano con qualche oscillazione a crescere fino ad oggi vedete e riconoscete facilmente i paesi in surplus il principale la Germania con più di 1000 miliardi di euro di surplus e il principale paese in deficit ai noi è l'Italia con un saldo che supera i 600 miliardi se li sommiamo tutti assieme vedete i crediti complessivi sfiorano i 2000 miliardi di euro ora questo è un aspetto del problema che non era contemplato dai criteri di convergenza e che quindi rimane l'altro aspetto anche questo l'ha evocato e vado veloce l'ha evocato Alberto stamattina lo squilibrio esterno dell'Europa nel suo complesso che di nuovo non esisteva fino alla crisi finanziaria globale l'Europa aveva e ve lo mostrava stamattina Alberto una bilancia queste sono le partite correnti una bilancia commerciale complessivamente in pareggio attraverso l'austerità è diventata la principale potenza mercantilistica su scala globale abbiamo pensato in qualche modo seguendo in questo la Germania di uscire dalla crisi attraverso le esportazioni con il finale beffardo evidentemente perché dopo che abbiamo fatto quest'ultimo decennio prendendo il posto della Cina complessivamente in quella posizione ci ritroviamo con un deficit dovuto chiaramente al deficit energetico in prima battuta dove però anche qua l'equivoco è di una cultura teorica prima che pratica cosa ci stai a fare lassù è una posizione di debolezza di dipendenza questo mi capitava in questi giorni di leggere un passo di un banchiere della Comit degli anni 60 la guerra ha mostrato che gli Stati Uniti non possono più bastare a se stessi nel 60 lo scrive dopo la seconda guerra mondiale e in che senso lo dice lo dice per dire che gli Stati Uniti che erano il principale paese in surplus non bastano a se stessi perché hanno bisogno di un mercato è una posizione di debolezza tanto quanto la posizione di chi sta in deficit e la Cina lo ha imparato perché appunto mentre noi salivamo la Cina è scesa in termini di surplus delle partite correnti inossecua un principio a cui sta dando atto che è quello di non sostituirsi agli Stati Uniti e di provare a esercitare l'egemonia in una forma diversa promuovendo l'uso all'estero della propria moneta ma non come strumento di riserva perché hanno imparato che significa indebitarsi fino al collo come gli Stati Uniti ma come mezzo di scambio e questo stanno facendo sulla base di accordi bilaterali avete visto Lula nella sua visita ufficiale in questi giorni cosa ha detto dobbiamo usare sempre di più le nostre rispettive monete nazionali al posto del dollaro perché non c'è nessun motivo in questa funzione di continuare a usarlo e l'Europa rischia al solito di rimanere schiacciata fra questi due modelli fra cui non sa decidersi no perché ci sono due modelli di egemonia e poi c'è l'alternativa che è quella di subire l'egemonia altrui e questa sembra essere la nostra specialità rapidamente il covid ne abbiamo già parlato ne hanno parlato sia Alberto sia Gennaro dal punto di vista delle politiche fiscali mostrandone tutte le ambiguità le politiche monetarie di risposta al covid ma anche queste sono state evocate stamattina ne parlava Marcello Foa ne parlava anche Claudio Borghi l'esplosione dei bilanci delle banche centrali in generale della banca centrale europea in particolare lo vedete in questo grafico in realtà la crescita spropositata comincia già a partire dalla crisi finanziaria globale già lì c'era stato un raddoppio del bilancio partiva lo vedete da mille miliardi adesso siamo arrivati a 8 mila miliardi con le conseguenze che di nuovo ci sono tristemente note tutta questa massa di liquidità è servita da un lato certamente per tenere unita l'unione monetaria per evitare un'ulteriore esplosione degli spread per finanziare quegli squilibri che vedevamo prima rappresentati nei saldi target ma non certo è servita a riassorbirli è servita semplicemente a perpetuarli e e a creare a suo modo alimentare una bolla che non è di debiti privati ma di debiti pubblici e di cui si comincia a intravedere la fine le banche si parlava prima le banche sono fallite perché non perché avevano fatto prestiti sconsiderati ma perché si erano riempiti di titoli del debito pubblico che poi si sono svalutati e altro effetto collaterale l'inflazione perché è vero che ci sono gli shock dal lato dell'offerta che c'è l'incremento dei prezzi delle materie prime che ci sono le catene del valore che non funzionano più ma c'è anche una massa di liquidità enorme che sta cercando un impiego quindi le prospettive a questo punto molto brevemente per cercare di uscire un po' appunto da questa cornice come anche è stata chiamata da un lato si parla diffusamente della creazione di un safe asset europeo quindi di una forma di debito comune ora qua chiarisco per me l'importanza di un safe asset europeo non deve essere a certo vista nella sua spendibilità verso l'esterno sarebbe una cattiva idea di pensarlo come un veicolo per il rafforzamento della posizione internazionale dell'euro per due motivi primo perché ci troveremo in diretta competizione con gli Stati Uniti e non credo che diciamo rientri in una prospettiva plausibile in secondo luogo perché vorrebbe dire indebitarsi cioè va all'estero a vendere i debiti nella divisione internazionale del lavoro ti specializzi nella vendita dei debiti che è sempre l'anticamera della fine l'interesse di un safe asset europeo è piuttosto su due altri versanti il primo ve lo mostro qua per proprio per ridurre gli spread questo è un esercizio che è tratto vi invito a guardarlo se non l'avete visto da una proposta dei colleghi Amato Saraceno Fabero che hanno lavorato su una agenzia del debito europea che ha lo scopo di emettere dei titoli del debito europeo comune ma senza una mutualizzazione per renderli politicamente viabili togliendo da il debito questa componente puramente speculativa che è legata agli spread e qua misurano proprio quello che chiamano saving effect e quello che risparmierebbero i paesi in particolare l'Italia e la Spagna avrebbero risparmiato in occasione della crisi dei debiti sovrani dall'esistenza di un asset di questo genere l'altro scopo chiaramente di uno strumento di debito comune è di poter finanziare l'acquisto di beni comuni se ne parla tanto oggi la transizione ecologica la transizione digitale la difesa comune è tutta roba che costa la devi pagare ciascuno stato preso per sé certamente non ha la possibilità di farlo né con le regole attuali né credo con quelle future di cui parleranno tra un attimo ma un debito comune potrebbe servire certamente per questo scopo consentendo di uscire un po' da quel paradosso che indicava prima Gennaro per cui appunto si parla del debito pubblico senza mai capire che insomma quel debito serve per finanziare degli asset sono liabilities ma di là ci sono degli asset che parimenti i nostri nipoti erediteranno quindi un safe asset al fondo per essere safe deve avere alla base quello che consente di finanziare infrastrutture sostenibilità ambientale e via discorrendo l'ultima cosa che vi dico ma sono già vedo fuori tempo massimo ha a che fare con una parte di storia della storia dell'integrazione europea a cui sono molto affezionato di cui già parlai dieci anni fa in questa sede la vicenda dell'unione europea dei pagamenti perché disegna proprio insomma un'altra possibilità di Europa ve la faccio breve ma soltanto per cercare di risollicitare la vostra curiosità di andare a cercarvela siamo nel 1950 c'è il piano Marshall in corso programma di aiuto internazionale più grande che la storia conosca che però nonostante questo incontra un limite cioè questi soldi vengono usati come c'era da aspettarsi per comprare merci americane e il commercio intraeuropeo non parte è bloccato quindi si tratta di cominciare a porre le basi di quello che diventerà il mercato comune europeo come lo si fa? creando una camera di compensazione fra i paesi europei che finanzia tra il 50 e il 58 tre quarti del commercio europeo senza chiedere un dollaro agli americani semplicemente attraverso una registrazione reciproca di debiti e crediti che ha vi risparmio il funzionamento ma mi interessa l'esito sono gli anni dei miracoli economici è lì che paesi come il nostro come la Germania come altri paesi europei non soltanto compiono la ricostruzione crescono escono diventano paesi industrializzati e senza creare squilibri né all'interno né all'esterno e questa è la cosa che vedete qua è l'ultima figura che vi mostro questi sono i saldi dal 50 al 58 all'interno dell'Unione Europea dei pagamenti sono l'equivalente dei saldi target sull'arco di otto anni gran parte dei paesi rimangono all'interno di quella fascia grigia che era la loro quota di prestiti e due paesi escono in alto la Germania strano no? era partita sotto però era partita sotto e sotto c'era altrettanto strano l'Inghilterra questa storia si conclude nel 58 e questa è l'ultima cosa che vi dico tristemente perché si decide che ha fatto il suo lavoro che a questo punto i paesi europei possono entrare nel sistema di Bretton Puzza nel 58 è l'anno del trattato di Roma allora c'è un po' un blef lì nel senso che il trattato di Roma certo crea il mercato comune europeo come spesso oggi si dice retoricamente a proposito appunto della prima sessione di oggi per la libera circolazione delle persone dei beni dei servizi e dei capitali no per la libera circolazione delle persone dei beni dei servizi i capitali erano menzionati in funzione ancillare se si spostano le persone o i beni certo che i soldi si devono spostare ma la giustificazione dello spostamento dei soldi è soltanto per i commerci e gli spostamenti delle persone questo c'era scritto nel trattato di Roma quindi eravamo ben lontani da quella finanziarizzazione istituzionalizzata che evocava prima Alberto lontani come spirito non lontani cronologicamente perché il 58 è anche l'anno in cui comincia la liberalizzazione dei mercati finanziari con l'invenzione degli euro-dollari quindi quello che poi diventerà di fatto istituzionalizzato con l'atto unico lo diceva bene Luciano prima però comincia in embrione ai noi già allora ma ho parlato ahimè fin troppo vi ringrazio io dovrei commentare ma sono molto d'accordo con quanto hai detto quindi ti faccio una domanda cattiva questa grande massa di liquidità creata dalle banche centrali e abbiamo tu già hai detto che appena hanno provato a dire beh adesso invertiamo la tendenza i prezzi dei titoli sono scesi i valori delle attività nella banca sono scesi le banche hanno venduto titoli facendo scende di prezzi e stavano di nuovo andando tutti a mare quindi non è banale come se ne può uscire e perché due delle cose che forse servirebbero che sono ha la top in tax cosiddetta cioè una tassa sulle transazioni finanziarie per esempio dell'uno per mille su ogni scambio di attività finanziaria e una patrimoniale sono ritenute diciamo il demonio da quasi tutti ma sì non è un mestiere invidiabile quello del banchiere centrale oggigiorno nel senso che dopo ormai un decennio abbondante di politiche monetarie non convenzionali tornare alla convenzione è difficile anche soltanto dire che forma debba avere e ogni volta che ci si prova in effetti si deve fare un passo indietro per cui è un compito che non ha a che fare con le politiche monetarie secondo me ha a che fare con la riforma monetaria quindi un cambiamento radicale del modo in cui la politica e la sovranità monetaria viene esercitata si aprirebbe un grosso capitolo che però accenno voi sapete che si parla oggi di euro digitale e più in generale di monete digitali di banca centrale che darebbero la possibilità e daranno la possibilità quando ci saranno alla banca centrale di formalmente aprire il suo bilancio non soltanto alle banche che finora sono state le uniche ad averci accesso ma anche alle famiglie e alle imprese che sono gli altri soggetti istituzionali questo chiaramente potrebbe rafforzare i canali di trasmissione della politica monetaria e quindi darebbe la possibilità creando meno denaro di farlo arrivare davvero dove serve perché poi questo è stato il grosso problema che questa massa di liquidità è stata appena sufficiente per evitare disastri maggiori di quelli che abbiamo visto perché è stata tesaurizzata perché è stata firma in parte anche per delle regole positive perché si è chiesto alle banche di capitalizzarsi di avere dei coefficienti di liquidità più alti eccetera allora l'idea invece è che attraverso una moneta digitale si possa riuscire a portare il denaro più là dove serve negli scambi e negli investimenti diciamo la cosa delicata è riuscire a farlo senza trasformare la banca centrale in una specie di monobanca di stampo sovietico perché tu vuoi comunque che siano le banche private a occuparsi dell'allocazione del credito perché se no insomma gran parte delle elaborazioni teoriche in Europa sono a questo livello in Cina questo problema non ce l'hanno e quindi hanno fatto prima e la stanno già sperimentando su larga scala però io credo che questa possa essere parte della soluzione così come io non non perdo la speranza nella Tobi in Tasco nella Tassa sulla transazione finanziaria che in parte è stata anche approvata in Europa ma che avrebbe esattamente questa funzione non soltanto di dare una fonte di gettito ma di rallentare i movimenti di capitale di carattere speculativo che creano quella forma di enforcement che Alberto ci insegnava prima si chiama come si chiama sanzione reputazionale no? ecco ma di qui credo si parlerà tra qualche minuto anche grazie 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 grazie